...intervenire la dottoressa Ubertazzi, che vedo il mercolo. Allora, io ringrazio anch'io la professoressa Onorati davvero moltissimo per avermi consentito questo intervento e per avermi fatto partecipe anche di varie sue riflessioni durante l'iter di preparazione molto complesso che ha avuto di questo evento riuscitissimo, quindi grazie mille. Allora, starò nei cinque minuti, davvero ve lo prometto. I regolamenti sul brevetto unitario realizzano il cosiddetto ventottesimo modello, ovvero un regime di natura europea alternativo a quelli nazionali dei 27 stati membri, ora 28, che è natura facoltativa e viene pertanto perseguito tramite regolamenti non obbligatori ma opzionali. I regolamenti opzionali non sono mai esaustivi, ma devono venire integrati dalla legge nazionale designata dai regolamenti medesimi o dal diritto internazionale privato dello Stato a cui questi regolamenti rinviano. Il ruolo della legge nazionale applicabile in via integrativa è tuttavia generalmente limitato, in quanto le lacune dei regolamenti sono normalmente minime. I regolamenti opzionali sono stati adottati, ad esempio, in materia societaria, dei contratti e della proprietà intellettuale. In materia di proprietà intellettuale sono stati adottati, come abbiamo più volte sentito, i regolamenti opzionali sui marchi comunitari, sui disegni e modelli e sulle varietà vegetali. Questi regolamenti superano il principio di territorialità nazionale a favore di una territorialità europea e realizzano così il mercato interno. Essi sono inoltre, nella maggior parte, autosufficienti, salvo che per pochi aspetti, quali ad esempio la contraffazione del titolo, per cui rinviano al regolamento Roma 2, abbiamo sentito, che richiama la legge dello Stato in cui essa è avvenuta, e dunque una legge tradizionalmente rispettosa della natura territoriale del titolo. Anche i regolamenti sul brevetto unitario in astratto superano la territorialità nazionale a favore di una territorialità europea. In concreto, però, i regolamenti in esame delegano tutta la disciplina sostanziale del titolo alla legge nazionale applicabile in vieta integrativa ai regolamenti stessi, a sua volta integrata da fonti sovranazionali. La legge applicabile viene peraltro individuata in quella dello Stato di residenza del titolare del titolo, e dunque in una legge che tradizionalmente non è rispettosa della natura territoriale, quando anche europea, del titolo di proprietà intellettuale in questione. In realtà, la legge dello Stato di residenza del titolare potrebbe esprimere ragioni di prossimità. In tal caso, la designazione di questa legge corrisponderebbe alla linea evolutiva secondo cui il principio di territorialità deve venire interpretato come espressione di ragioni di prossimità, anziché di sovranità. Ed è quindi conforme a questo principio, secondo questa nuova linea evolutiva, richiamare come legge applicabile al diritto primario di proprietà intellettuale anche una legge diversa da quella dello Stato territorio per cui si chiede la protezione. Grazie mille.